Proviamo a eseguire una sottrazione tra due frazioni Il procedimento è simile a quello per le addizioni Distinguiamo due casi Se le due frazioni hanno lo stesso denominatore otteniamo una frazione che ha per denominatore lo stesso denominatore e per numeratore la differenza dei numeratori In questo esempio possiamo anche semplificare il risultato Se le due frazioni hanno denominatore diverso invece occorre trasformarle in altre equivalenti Si riducono quindi le frazioni al minimo comune denominatore E poi si esegue la sottrazione applicando la regola precedente Possiamo usare la sottrazione per trovare la frazione complementare di una qualsiasi frazione propria Calcoliamo la differenza tra 1 e la frazione data La sottrazione è l'operazione inversa dell'addizione Quindi le due frazioni danno come somma 1 Sono complementari Grazie a tutti 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 Grazie a tutti